Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Benvenuti a War Room Business. Oggi voglio raccontarvi una storia di vino, di olio, di ospitalità con un comune denominatore, l'amore per la Sicilia. Nel 1995 era un vigneto, una cantina, poi i primi vini e tanti tanti sogni, che dopo quasi 30 anni si sono trasformati in aziende dislocate in cinque angoli di paradiso in Sicilia, dove vengono prodotti vini differenti che raccontano di straordinari territori. Tutto questo è Planeta e ho il piacere di avere qui con me Alessio Planeta, amministratore delegato e responsabile tecnico dell'azienda di famiglia. Benvenuto. Grazie, grazie, grazie anche della presentazione. Grazie a lei. Allora, Menfi, in provincia di Agrigento, è il punto di partenza e dove nasce il racconto della storia di famiglia che vanta una lunga tradizione agricola alle spalle, che comunque da 17 generazioni, dal 1500, si tramanda. Ci racconta le tappe fondamentali dell'azienda? Sì, andando un po' più al ridosso col tempo, direi che sicuramente la mia generazione deve tanto, prima a mio nonno, che era un uomo nato nel 1893, quindi che aveva vissuto una Sicilia complicatissima, lontana, isolata, pericolosa, romantica, ma sicuramente di nuovo non facile. Mio nonno era un barone, aveva una proprietà grande, ma non grandissima, e oltre a avere fatto per tutta la sua vita agricoltura in maniera molto moderna, cioè cercando di aggiornarsi, pensate cosa poteva essere la Sicilia, non so, dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la Seconda, queste zone, la Sicilia. Poi ebbe un'intuizione che fu quella di, invece che dividere l'azienda tra i suoi figli, numerosi, sette, e quindi spezzettare quella che sarebbe stata un'azienda impossibile da tragressare verso il presente, diede a ognuno di loro delle azioni e quindi li legò in un patto familiare che poi è stato quello che ha permesso a tutti quanti intanto di rimanere molto uniti come famiglie e poi di mantenere in piedi e intatta questa attività. Poi nella generazione successiva a quella di Miondo c'è stata quella appunto di mio padre e anche di mio zio. Mio zio, che si chiamava Diego Planeta, è stato un pioniere del vino in Sicilia perché ha ricoperto tanti ruoli sia quello di presidente di una grandissima cantina sociale che è stata una cantina sociale che era stata fondata da mio nonno ma che mio zio con un figlio da campione, diciamo, l'aveva traghettata da pochi soci fino a arrivare, fin quando lui era presidente, a 2.000 soci e 6.000 ettari di vigna, cioè era grande quanto una nazione vinicola. Poi era stato presidente negli anni Ottanta di un istituto di promozione e ricerca della viticoltura siciliana che prima di lui non faceva nell'uno o nell'altro e con lui invece è diventato un motore straordinario di implementazione di quello che era un mestiere antico, un mestiere difficile in Sicilia ma con tantissime cose a raccontare che era appunto quello di fare il vino. Questo istituto si chiamava l'istituto regionale della vita e del vino e in quegli anni arrivarono in Sicilia i grandi consulenti, le grandi conoscenze, la stampa, l'apertura della Sicilia e una volta una persona mi ha detto che la prima buona notizia che è venuta dalla Sicilia dopo gli anni 90 è stata quella del vino. Poi per fortuna sono arrivate altre e quindi ha avuto sicuramente un ruolo importante. E poi è arrivato lei, ecco. Noi parliamo sempre al plurale ma lo facciamo non per falsa modestia ma per realtà. Noi siamo un gruppo, appunto, una nuova generazione che già ce n'è altre due dopo di noi perché sono già nonno quindi il mio figlio lavora già in azienda quindi insomma e poi siamo arrivati noi e siamo arrivati in un momento in cui la Sicilia si stava trasformando nel vino forse in qualche maniera siamo stati anche noi e altri colleghi, amici siciliani che diciamo all'inizio degli anni 90 ha iniziato a andare in giro per il mondo a raccontare questa storia questa storia che poi in realtà era millenaria che era la storia del vino siciliano che andava un attimino magari attualizzata e resa, come dire, anche internazionalizzata sicuramente e siamo andati in giro abbiamo iniziato mia cugina, mio fratello e me ognuno con ruoli diversi e poi da lì sono andate tante altre cose tutto questo è nato a Menfi nella Sicilia sud-occidentale nella zona dove la mia famiglia appunto aveva le origini tra Sambuca e Menfi nella zona che poi era forse più nota prima per il terremoto della Valle del Belice o anzi come è giusto dire Belice e poi invece successe tante cose belle in agricoltura Ecco, dopo Menfi abbiamo Ulmo a Sambuca di Sicilia Dorilli a Vittoria Bonivini a Noto Sciaranova sull'Etna a Castiglione di Sicilia e poi la Baronia a Capomilazzo quanti sono gli ettari complessivi? Allora, in totale gli ettari di vigna sono quasi 400 però mi piace dire il perché in questi posti la scelta non è casuale la scelta nasce dal fatto che in realtà la Sicilia non produce un vino ma produce tanti vini la Sicilia è un'isola relativamente piccola ma poi in realtà per tanti motivi ogni angolo produce cose diverse E anche diversa territorialmente poi Esatto I motivi infatti sono geologici perché Sicilia va dal vulcano più alto d'Europa che è l'Etna alle isole in mezzo al mare alle montagne del nord ai terreni bianchi di Noto rosso di Vittoria fino alle colline di Menfi diverso anche dal punto di vista proprio viticolo perché per esempio ci sono delle varietà che si coltivano in tutta la Sicilia ma ci sono delle varietà che si coltivano soltanto in alcune specifiche zone della Sicilia Poi c'è tutta anche l'architettura siciliana o il cibo siciliano è completamente diverso e questo è stato per un'ispirazione per cui noi siamo nati a Menfi e poi da lì abbiamo iniziato a esplorare queste zone miticole ognuna delle quali aveva veramente una storia antica a Vittoria c'era solo di Vittoria a Noto un po' l'origine del Nero d'Avola nella zona di Pachino di Noto l'Etna che non ha più bisogno di presentazione il vino sul vulcano sulle appendici del vulcano attivo e poi l'ultima magari forse meno nota ma poi anche quella antichissima che è la zona di Milazzo dove si cruce il Mamertino che era un vino di cui addirittura parla Giulio Cesare perché appunto davanti al Capo Milazzo poi si svolgono le guerre poi decisive per Roma e soprattutto per la conquista della Sicilia e quindi insomma è questo percorso che oggi è quasi un anello intorno alla Sicilia ci sono altri territori sempre della Sicilia che vorreste inserire nell'anello? iniziamo ad essere un po' stanchini però no in realtà ogni tanto siamo così un po' tentati dalle isole e soprattutto la Pantelleria che è un posto straordinario ma insomma il nostro è un lavoro che ha tempi molto lunghi pensate quando si decide di fare una cosa del genere poi i risultati si hanno dopo dieci anni cioè i tempi sono sempre lunghi quindi vedremo insomma ma siccome noi abbiamo fatto anche tante altre cose non abbiamo il tempo di annoiarci al momento certo passiamo appunto alla vendemmia di quest'anno com'è andata? in generale quante bottiglie producete ogni anno? noi produciamo circa due milioni e mezzo di bottiglie che possono sembrare tante ma in realtà poi rispetto alla superficie che noi abbiamo non sono neanche tante la vendemmia di quest'anno è una vendemmia sicuramente non facile ma soprattutto perché c'era poca uva poi l'uva era buonissima e quindi per un'azienda come noi che ha appunto il focus tutto sulla qualità e non sulla quantità va bene anche così assolutamente e quindi alla fine a parte che l'agricoltore si abitua a segue un po' i ritmi della natura esattamente quindi la vendemmia è diversa e questa vendemmia è una vendemmia che ricorderemo per l'ottima qualità non sicuramente per la quantità ma ce ne faremo una ragione Alcanto al vino c'è un altro prodotto per cui siete noti che è l'oro verde l'olio e quanti litri producete ogni anno? Qual è il rapporto tra vino e olio? Il rapporto vino-olio è circa direi 15 a 1 a fuori del vino però vi ricordo che quando uno apre una bottiglia di vino la finisce subito invece l'olio esatto noi siamo anche dei grandi produttori di olio nel senso che abbiamo un oliveto spettacolare sul mare che è un corpo unico di quasi 150 ettari tutto ad olivi e macchia mediterranea con al centro il frantoio quindi noi chiudiamo tutta la filiera produttiva partendo appunto da questi terreni che sono un'oasi vera e propria in biologio come tutto planeta e circondati da destra a sinistra da due fiumi e davanti dal mare quindi un'oasi di biodiversità dove da tempo noi avevamo deciso di proteggere questo luogo da come dire di solito le coste siciliane tendono tendono all'urbanizzazione invece noi l'abbiamo o limitate invece che urbanizzate e quindi è un posto oggi di cui siamo molto molto fieri perché è una difesa del territorio molto importante e poi oggi l'olio sta finalmente avendo il giusto riconoscimento anche di valore che prima non aveva e quindi siamo anche soddisfatti da questo punto di vista la Sicilia anche lì è un posto che ha una lipicoltura millenaria appunto se è l'olivo o la cultura mediterranea vuol dire la Sicilia qualche cosa di buono da per fare e allora quali sono i canali distributivi quindi dove si trovano i vostri prodotti e oltre all'Italia dove siete presenti sì noi siamo oggi non è più diciamo come prima che ci sono delle divisioni nette tra la distribuzione tra come si dice la prima ristorazione o enoteche grande distribuzione oggi esiste una grande distribuzione che ha anche i migliori prodotti al mondo quindi noi siamo focalizzati ovviamente sul canale ristorazione enoteche mescita in generale quindi consumo diretto ma un certo tipo di grande distribuzione ovviamente con tanto piacere andiamo il nostro mercato per il 50% è l'Italia per il 50% è l'estero noi da subito anche in tempi in cui era meno magari ovvio che ora abbiamo cercato di spostarci in tanti posti di essere presenti in tanti mercati oggi siamo presenti noi in 78 mercati quindi veramente è una distribuzione abbastanza abbastanza se posso fare una battuta planetaria e poi accanto al vino e all'olio avete introdotto anche la pasta la farina e poi quelle che sono delle vere e proprie esperienze esperienze sensoriali quindi nell'acconto della sua terra come si intersecano tutti questi elementi sì allora in realtà noi quando abbiamo iniziato a fare il vino abbiamo utilizzato moltissimo nel racconto del vino proprio l'ospitalità chi voleva visitarci poi stava a casa nostra mangiava quello che appunto treccialmente cucinavano le mie famosissime zie bravissime e allora questo è stato l'inizio di Planeta dopo un po' ci siamo accorti che questo appunto era qualcosa di unico era qualcosa anche che facevamo bene quindi abbiamo strutturato in maniera più organizzata sia avendo tutte le cantine visitabili perché tutte le cantine di cui abbiamo parlato prima sono visitabili con delle esperienze specifiche in ogni cantina le persone possono venire possono assaggiare non solo i vini del luogo ma anche la cucina del luogo in formule diverse poi abbiamo anche aperto un albergo che si chiama La Foresteria a Menfi un piccolo boutique hotel in mezzo alle vigne che guarda il mare poi sempre a Menfi e lì mi ricollego agli altri prodotti intanto noi abbiamo capito da un po' di anni che la monocultura cioè produrre soltanto vite e vino non fa bene né all'agricoltore né alla campagna intanto perché è noioso perché se no uno poi va in campagna solo nell'epoca nelle stesse epoche invece così la vita in campagna è molto più varia molto più poi fa bene all'ambiente perché ovviamente si creano delle sinergie degli equilibri che sono importantissimi e allora anche per questo qualche anno fa abbiamo pensato sia a produrre altre cose per esempio a Noto che è una terra di origine anche sia di alcuna viticoltura ma anche famosa per le mandorle e allora insieme ai vigneti abbiamo anche le mandorle produciamo delle mandorle buonissime che quindi vedano un po' il racconto del territorio a Menfi l'olivo e poi sempre a Menfi in realtà a Sambuca qualche anno fa abbiamo fatto un'azienda insieme a dei partner francesi cioè avevamo finita diciamo quasi l'esplorazione della Sicilia c'era avevamo lo stimolo di trovare degli stranieri che potessero investire in questa terra nel vino e allora abbiamo incontrato dei francesi che avevano con i quali condividevamo un enologo quindi una condivisione tecnica e loro sono una famiglia francese che si occupa di finanza e anche di vino avevano studiato una realizzazione di delle cantine in joint venture con delle famiglie in giro per il mondo una fattura in Sud Africa una invece loro nel sud della Francia una in Sancerre e una in progettazione in Spagna e ne abbiamo fatto una insieme in Sicilia l'abbiamo fatta secondo i principi si chiama Serra Ferdinandea quindi una cosa separata da planeta ed è un'azienda che è realizzata secondo i principi dell'agricoltura biodinamica che prevede non soltanto appunto che prevede la realizzazione di una sorta di organismo agricolo dove non hai soltanto la vigna ma hai la vigna hai i ceci e quindi la farina ai ceci hai il grano hai gli allevamenti hai le api hai i fichi cioè c'è tutto è una fattoria dove niente è casuale ovviamente ma tutto è collegato per ottenere una diciamo efficace agricoltura dove diciamo la sostenibilità raggiunge secondo me il massimo della realizzazione ecco quanto la diversa percezione della Sicilia che si ha ormai negli ultimi anni che è diventata comunque un luogo ormai un mass soprattutto per il turismo è stata fortemente rivalutata dal punto di vista turistico culturale dal punto di vista esatto quanto influisce questo tipo di quanto favorisce questo tipo di collaborazioni anche con partner esteri no tanto intanto perché diciamo il siciliano in quanto nato è cresciuto in un'isola ha bisogno di aprire i suoi i suoi noi siamo sempre stati viaggiatori e siamo sempre stati anche per il vino la nostra attività da subito è stata volta all'estero e quindi questo è molto importante come è stato importante per la Sicilia per esempio nel turismo l'arrivo di partner come Four Season a Taormina o Roccoforte a Villegge a Palermo o al Verdura qui a Sciacca è stato molto importante perché non è soltanto un apporto di capitale ma un apporto di idee di sensibilità di visione del mondo perché appunto la Sicilia era qui da millenni e alle volte mi viene a pensare che eravamo in pochi a capirne il potenziale da un lato e anche la bellezza poi ovviamente servizi erano pochi e quindi la Sicilia era un posto per romantici era un posto appunto ancora legato al Grand Tour al viaggio mitico dell'ottocentesco oggi finalmente io poi mi auguro sempre che la Sicilia non perda assolutamente quello suo carattere straordinario di originità di posto vero appunto e non un posto dove il turismo diventa poi uguale in tutto il mondo questo almeno noi dentro casa nostra saremmo molto rigorosi in questo perché questo secondo me è ciò che vuole il viaggiatore quindi per ripetermi importantissimo l'apporto anche lo è stato per noi il rapportarsi con chi vede il mondo da altre angolazioni è sicuramente importante ecco lei prima parlava di idee lei è una fucina di idee perché per esempio leggevo che quest'estate ha lanciato anche il Beach Club Insula a Portopalo di cui ho sentito parlare essendo venuta in vacanza in Sicilia il Wine Bar Planeta all'aeroporto di Palermo Ab Insula come nascono queste idee perché comunque c'è sempre un comune denominatore ma hanno comunque poi elementi che li differenziano intanto io mi prendo questi complimenti soltanto se li giro al mio team familiare perché assolutamente le facciamo insieme anzi direi che mia cugina Francesca è molto più focalizzata sull'aspetto appunto dell'ospitalità e infatti il Beach Club è sicuramente un figlio suo un piccolo Beach Club delizioso si chiama Insula il cui nome già è pieno di citazioni e di suggestioni ed è bellissimo perché è sul mare ma è dietro delle dune sotto degli alberi quindi ha il rispetto totale del luogo dove siamo arrivati l'opposto l'opposto di come uno si immagina un posto di mare un posto di mare dove il mare è totalmente rispettato con mio fratello Santi che si occupa invece della parte commerciale è nata l'idea di fare una distribuzione che si chiama Abinsola quindi dall'isola questa volta in cui dentro ci sono due aziende speciali una è appunto l'azienda quei francesi e l'altra è una storia straordinaria di un'azienda dell'Etna antichissima che sia Castello Solicchiata che viene distribuita in giro per il mondo e quindi insomma nascono idee tutte insieme diciamo un gruppo di progettazione il Wembar Planeta è nato da una sollecitazione possiamo dire finalmente a Palermo da un po' di anni c'è un aeroporto bello e ogni anno si apre un pezzo finalmente a un bel aeroporto che sta bruciando il record di visitatori e ci hanno chiesto con il gruppo Autogrill di lavorare a un posto dentro l'aeroporto e noi siamo ovviamente entusiasti perché è una cosa bellissima sarà un punto in Sicilia si arriva solo attraverso l'aereo praticamente e quindi insomma sarà una grande promozione per il nostro lavoro e per la nostra visione della Sicilia ecco a proposito di visione della Sicilia e del vostro lavoro sul vostro sito leggo economicamente sostenibile ecologicamente attento eco socialmente queste sono le tre e a cui obbedisce la vostra produzione e concretamente come si declinano ecco la ringrazio molto anche del concretamente perché intanto ultimamente diciamo queste parole vengono come dire attaccate a tutto e tutti invece noi siamo stati insieme agli amici Tasca d'Almerita 12 anni fa i fondatori di un programma di sostenibilità che si chiama Sostain che è un programma rivolto alla viticoltura siciliana che oggi ha credo 40 vende associate che fa delle cose bellissime tra cui ne racconto una che è l'avere fatto una bottiglia fatta per il 95% bottiglia di vetro per il nostro vino sterilizzata per il 95% con vetro riciclato in Sicilia quindi un abbattimento dell'impronta carbonica veramente importante poi noi da qualche anno siamo certificati in biologico quindi non diciamo soltanto come dire tra di noi che siamo sostenibili ma siamo certificati dall'esterno e quindi mostriamo sulle nostre etichette questa doppia certificazione che sono una garanzia totale del nostro lavoro a parte diciamo un'estetica un rispetto dei luoghi che lì invece bisogna avere la pazienza di venire ma che viene ripagata poi dall'armonia dei luoghi dal punto per gli altri aspetti della sostenibilità economica noi siamo abbiamo sempre lavorato con appunto sviluppo tutti questi progetti proprio perché appunto noi piacere di rinvestire ciò che il nostro lavoro ci dà in altri progetti appunto che hanno appunto l'amore per la Sicilia poi come comune denominatore e in ultimo siamo molto attivi in una serie di quelle cose che un imprenditore serio fa ma non racconta che sono appunto l'impegno sociale a parte appunto avere dei rapporti particolarmente buoni con tutti i dipendenti tant'è che addirittura i sindacati mi hanno invitato a parlare a un convegno che cosa mi ha stupito devo dire ma è stato molto 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 ascoltare la presentazione di un lavoro proprio su questo argomento allora purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo ce ne sarebbe bisogno di molto per raccontare tutte le attività e tutte le sfaccettature di Planeta voglio però fare un'ultima domanda quest'anno lei è stato un insignito del premio Weinstein Star Awards indetto ormai da 24 anni dalla rivista internazionale Wine Enthusiast come ci si sente ad essere l'enologo più bravo del mondo e soprattutto un titolo che manca all'Italia da 16 anni una grande responsabilità no io sono la persona più modesta del mondo ovviamente uno si sente bene perché è un premio che va tra l'altro a tutta l'azienda perché io faccio l'enologo nel senso che coordino tutti gli enologi però ogni anno scelgo una cantina dove mi fermo e faccio la vendemmia come quando avevo 20 anni quindi mi piace molto questo aspetto proprio pratico del lavoro che mi tiene attaccato anche a certi ritmi a certe cose che sono il bello del nostro lavoro quindi si sente bene per il piacere che dà agli altri e poi insomma io sono poi una formazione scientifica quindi i premi che sono per esempio chi va più veloce lo puoi cronometrare e allora in effetti il tempo più basso è il più veloce di tutti per il resto ovviamente sono contento ma è contento anche per la Sicilia perché poi questo è un premio che non era mai arrivato in Sicilia era arrivato una volta solo in Italia era arrivato in Toscana e quindi insomma insomma sono contento anche perché poi mi chiamo come il vino e quindi o Planeta come si chiama il vino è anche come dire un'ottima cosa per noi per la Sicilia e per tutti grazie io la ringrazio molto di questa chiacchierata piacevolissima grazie ancora grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento alla prossima Forum Business arrivederci grazie grazie